La riproposta della ragione di Cibo e Salute. Nuova raccolta fondi per la seconda edizione di Cibo e Salute. Una tavola lunga 100 metri ha ospitato la mostra alimentare organizzata dall'Associazione Cancro Prima Aiuto nella cornice del centro di Monza. Un connubio tra formazione e informazione, divertimento e solidarietà. Tantissimi partecipanti alla manifestazione finalizzata alla sensibilizzazione sui corretti alimenti da assumere come strumento di prevenzione. Ai partecipanti è stato proposto un menù tanto salutare quanto gustoso. Questo menù è stato sviluppato seguendo l'Igna Guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale ha stilato 10 punti fondamentali per la prevenzione delle malattie oncologiche. La base di questo menù sono alimenti integrali, poco raffinati, sono presenti pochi cosiddetti zuccheri semplici, ricco in vegetali, quindi frutta, verdura, legumi e prodotti soprattutto di stagione. Numerosi anche partecipanti alla cena benefica conviviale che ha concluso la serata permettendo di raccogliere i fondi necessari all'acquisto del nuovo acceleratore lineare per l'ospedale San Gerardo.